...su questo ritorno in patria di Cesare Battisti, la chiediamo anche a Mario Di Nolfi. Buonasera, Di Nolfi. Buonasera a voi, beh, una buona notizia, ora spero che ha un po' di silenzio, che faccia il paio con la pace, che finalmente possono respirare le famiglie delle vittime. Io ricordo, sono stato in televisione alla 7, proprio mentre arrivava la notizia, la mattina stessa e avendo scordato tutto il terrorismo in Italia, abbiamo ricordato le vittime, perché di Battisti abbiamo chiarissimo il nome, il soggetto, le fattezze fisiche, delle vittime abbiamo scordato quasi tutto, tra cui l'ultima vittima di Battisti fu un ragazzo di 24 anni, ucciso con 5 pistolettate, faceva servito dello Stato, si chiamava Andrea Campagna, ucciso il 16 di aprile del 79, 40 anni dopo finalmente per lui c'è giustizia e pace e io chiedo a questo punto anche silenzio, perché non merita neanche secondo me la particolare sottolineatura che mediaticamente è stata offerta, oggi si, ieri pone, ma adesso basta, adesso sia per lui punizione, perché è giusto che sia, e per i familiari pace è finalmente un po' di giustizia fatta. Guardi, la giusta chiusura, perché poi anche per motivi di tempi radiofonici non avevamo ricordato quello che ha fatto lei in pochissimi istanti, cioè i nomi delle vittime, sono perfettamente d'accordo con lei anche sul discorso del... Non è colpa vostra, non te li ricordo di colpa. No, noi non abbiamo potuto perché avevamo diversi ospiti che ovviamente sui quali poi siamo andati magari più sul dibattito politico e tutto quello che è nato in queste ore, poi chi ha avuto voglia in questi giorni, perché giustamente è intervenuto un magistrato come Di Pietro, il quale ha puntato il dito anche sulla ignoranza, nel senso stretto del termine, di chi oggi come oggi non sa cosa accadde qualche decennio fa, ci sta pure, l'importante poi è documentarsi se si ha voglia. Quindi grazie ad Adinolfi per aver fatto questo passaggio che forse a noi era sfuggito. Però non l'abbiamo voluta, io l'ho voluta perché una settimana fa una sua intervista su delle posizioni che sono sempre le sue, questo lo sappiamo, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, ma oggi riappariva un tratto di questa intervista che mi aveva lasciato un po' basita. Io le ho chiesto prima al telefono, ma veramente Adinolfi ha detto che chi non usa l'uso del preservativo, al di là del fatto che dal suo punto di vista possa essere sbagliato e chi poi in qualche modo si ammala per avere un comportamento sessuale non in linea con le sue idee, possa addirittura essere tacciato di giustizia? Sì, era fino a un titolo un po' folle, si diceva che avessi affermato che si meritavano le malattie coloro che non sottostavano alle regole, diciamo, con il dettaglio del Catechismo della Chiesa Cattolica, non dava casi notte, questo ho decisato, ovviamente il titolo non esisteva, non mi ha affermato, non dà di tutto questo. rimane il fatto che io sempre credo, sempre affermato che dal punto di vista dell'educazione sessuale, educare a una sessualità responsabile, a una sessualità in cui non la si dà via, diciamo così, ma si rispetta il proprio corpo, il corpo e il proprio partner, sia il primo impegnamento per proteggersi dalle... non la si dà via, anche non lo si dà via, c'è un lapsus ovviamente, non maschilista. deve essere un po' di testismo che mi è uscito fuori. Ah, le è uscito, no, perché sai, io invece sono un po' femminista, non sono... Lola, 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 se no si dà via... Ecco, ma, giustamente l'hai detto, ma comunque... Il mio problema è che io sono un papà di tre figlie femmine, quindi ho questo... ho, diciamo, l'atteggiamento protettivo del papà. Per carità, posso anche capire, ma il preservativo lo ingossano gli uomini, fino a prova contraria. Sì, spero che... Se torniamo al tema del preservativo... Si sovrano, diciamo così, a vasto raggiudità, perché a questi tre anni abbiano nei confronti del proprio corpo un rispetto significativo che le porti a riflettere prima di incontrare sessualmente una persona. Questo è l'elemento, se lo è, centrale, se fai l'amore, la persona che conosci nel profondo con quel rapporto importante, con cui il rapporto è solidificato nella fiducia reciproca, tendenzialmente si rischia meno rispetto a chi ha una vita sessuale completamente promesca. Questo è un dato di fatto persino panale, tant'è che scientificamente i contagi dracconi sono rarissimi rispetto ai contagi in altri contesti. Ma resta il fatto che uno non può mettere la mano sul fuoco per nessuno, neanche per la moglie? No, perché poi c'è tutta una serie di persone che ha l'abitudine di avere rapporti occasionali, per esempio con il mondo della prostituzione, ma per carità di Dio. Ma che persone conosci, Luisa? Ma guarda, io personalmente ne conosco diverse, ma non posso mettere la mano sul fuoco su nessuno. Sì, conosce il mondo dei tieni positivi e dell'AIDS, perché poi parliamo di una cosa che è tragica per certi venti, conosce quel contesto, per il contesto del mondo dei tieni positivi e dell'AIDS, in stragrande maggioranza, una stragrandissima maggioranza, non riguarda un contagio che avviene traccoltoci. Cioè questo è un dato scientifico e di fatto, ovviamente poi discredita con tutti, ma i dati di fatto scientifici certificano che il contagio avviene sempre in un contesto diverso, al stesso coniocato. Questo, se vogliamo parlare di profilassi, ecco qua, antimalassi e venere, questa è una profilassi diversa da quella che è stata... Ma forse perché è più complicato ammettere la promiscuità all'interno di un rapporto coniocale, no? Ma è complicato, è stato scientifico, non accadde. È stato scientifico, perché a me se io dovessi essere sposata e mi dovessero chiamare per mettere dati, come dire, difficilmente direi che tradisco. Ma se sei malato e sei seropo di l'AIDS, guarda che... Non scappi, dici tu. Quello è stato effettivo. La verità è che... Sono po' di casi di cronaca che ci porterebbero a pensare il contrario, però... Ecco, io domando a Dinofi, veramente con grande rispetto, ma non è il caso comunque di cambiare o di spingere per cambiare opinione riguardo ad un mezzo meccanico? Comunque è una roba che ha poche implicazioni morali, francamente. Cioè uno si comporta bene nella vita e poi se vuole si protegge o fa... Diciamo, io ho già due figli, non penso di poterne avere altri, mi sono troppo in lacco gli anni, anche mia moglie. Cioè, perché no il preservativo? Io non ho mai capito questa avversione nei confronti del preservativo. Ecco, veramente, giuro. Perché è un meccanismo che pensa di risolvere il problema con una protezione meccanica. Mentre in realtà il problema non lo risolve con una protezione meccanica, il problema si risolve solo se c'è un approccio culturale diverso alla sessualità. Il caso più clamoroso è avvenuto in Africa. La polemica è stata... Il preservativo non è mai stata fatta a validocio. È stata fatta su un papa, che è benedetto XVI, che è andato in Cameron, e in quel contesto disse questa cosa sul preservativo, dicendo guardatevi, non la risolvete col preservativo la questione. La questione è la sessualità, le forzate, la fedeltà. Ci è dimostrato poi scientificamente che in quei contesti, quali paesi africani che sono stati monitorati, se i costumi sessuali vanno verso la dimensione di fidelizzazione coniugale, regredisce l'AIDS. Se invece la promessibilità sessuale continua, hai voglia di non dargli di... No, ma questo... Allora... Non c'è niente da fare. Eh, però, Andinolfi, lei è molto informato e credo abbia letto proprio da qualche... Un fenomeno, cioè... No, 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 io volevo dire un'altra cosa, che c'è un allarme anche nel nostro paese che si è stato lanciato anche negli ultimi mesi, per fortuna, che probabilmente si è parlato troppo poco da qualche anno a questa parte di quanto possa essere importante invece il ricorso al preservativo, quasi a dimenticarci. Capisco il suo punto di vista, posso più o meno condividerlo, ma ci si dimentica poi che la realtà, ad esempio in Italia, mi fermo solo in Italia, sia un'altra che a 12, 13, 14 anni i nostri ragazzi hanno già dei rapporti sessuali e voglia a predicare che bisognerebbe preservare la propria sessualità, ma a 12, 13, 14 anni si hanno già dei comportamenti estremamente promiscui e quindi credo sia, come dire, fondamentale che l'educazione sessuale intervenga intanto mettendo in mano un preservativo alla propria figlia e al proprio figlio. Sì, anche, non solo per evitare l'AIDS, ma anche delle gravidanze che a 15 anni sarebbero inopportuni. Sì, però di una gravidanza ne possiamo parlare, se ti prendi l'AIDS è più complicato. Ritocca l'esperienza del padre di tre figlie femmine, io alle mie figlie femmine non metto in mano un presenza cittadino, io alle mie figlie femmine insegno la sessualità responsabile. Io non credo che ne risolverò la situazione facendo, dicendo, fai quello che vuoi, ecco la tua protezione, il tuo scudo contro il male. Io penso che il male, in realtà, è finito da altre condizioni, è il mio ruolo di padre. Perché lei vede il sesso come male? No, non è finalizzato. Nel male intendo la malattia, stiamo parlando di questo. No, se non è però finalizzato all'interno di un rapporto di coppia. Cioè, io neanche direi semplicemente a mia figlia ecco, questa è la risoluzione di tutti i problemi. C'è una che è di mezzo. Non mi spiace, io continuo a pensare che alla figlia femmina ha messo le tre. Non ci vedo, può farci perché... Io c'era una sola, ma sono preoccupato lo stesso. Ecco, questo non si può dire. Ma non chiedo neanche a tu che gli metti il preservativo in mano. No, ancora per il momento no, però ci sto pensando... Un po' ci sto pensando nel senso che... Dai, dai. Scusi Adinolfi, ma se avessi... Torni in me... No, ho 12 anni, però... Torni in me la femminista, no? No, quella di prima. Cioè, se avessi un figlio maschio cambierebbe la sua posizione? Eh, no, io provo l'esempio in quella proposta intervista che fa a Scadano Scadano. È stato fatto su figlio maschio che non ho. Io ho detto, se avessi un figlio maschio di cui mi accorcesse, se avessi un'attività sessuale promissua, io non è che la mia soluzione è dargli il preservativo. Se lui mi dice che... Mi viene detto che va a prostituire regolarmente, non gli darei un preservativo, gli darei un schiaffo. Dopo che gli ha dato lo schiaffo smetterebbe, secondo lei, di avere delle pratiche sessuali diverse dalle sue... Però non c'è bisogno. Io questo lo capisco, lo schiaffo. Però... A 15 anni, mettiamo a 15 anni. Per il tuo comportamento sbagliato o lo devi segnalare a far sbagliare? Ok, io sono d'accordo. Però, allora, a 15 anni, magari metto mia figlia, no? Comincio a fare... Sì, se ho messo a 15 anni, e come faccio a dire... A 15 anni? Eh, è possibile. In classe sua lo fanno anche già molto da prima. Veramente è una cosa impressionante quanto si è abbassata l'età. Io cercavo di essere ottimista con 15 anni. Comunque, detto questo... È per quello che io ho fatto, ho richiamato l'attenzione sui 12, 13, 14 anni. Non è... Sono le statistiche che parlano con io. Ecco, quando gli va, mettiamo che sia ancora minorenne, perché poi diventa maggiorenne e ci deve pensare a lei. Ma mettiamo che sia ancora minorenne. Ma io, veramente, come faccio di impedire... Oltre a spiegarle tutto quanto, eccetera, eccetera, però, se fa sesso, c'è il rischio... Io non sto parlando di malattie, sto parlando poi delle gravidanze a 15 anni, insomma, che sarebbe il caso di evitarle, insomma, no? Beh, io credo che dal ceditore, lo dico da per me, poi non voglio malare per altri. Io, per quello che faccio io, io cerco di essere convicente sul dato che ho espresso qui da questa attenzione. E devo dire che con le mie figlie in qualche modo è andata bene. Poi dopo sono anche un padre molto presente. Io guardo, sfio, leggo Facebook, mi accorgo di ogni like. Ruppate il genuto, diciamo così, all'italiana. Per cui io cerco di monitorare i rapporti, quello che c'è, quello che accade. Cerco di capire. Non credo nella privacy della figlia minorente, da chi è svegliato, voglio sapere quello che accade. e ho un approccio di questo tipo. Credo che, ditta un tempo per ogni cosa, e a 15 anni, io farò di tutto, perché la seconda ancora ci deve arrivare, tranne che mettergli il preservativo in mano. Questa è l'unica cosa che non farò. Questo lo posso dire da subito. Cercherò di fare di tutto affinché la sua maturazione diventi una maturazione più serena possibile. Perché fare, questo lo posso dire, sesso a 12, 13 o 14 anni è male per una ragazza. Guardi, su questo sono perfettamente d'accordo. Cioè io, non passi adesso il messaggio che ritenga che a 12 anni ci sia tempo opportuno per fare sesso, per carità di Dio. Il problema è un altro. Pesso avanti. No, no, ma guardi, lei è un maschio, però. Io ho un maschio di tre anni, insomma neanche, e spero di dover gliele fare tra di una decina d'anni questi discorsi, non credo. Almeno. Almeno, voglio dire. Però, io dico una cosa, lei dice prima, io sono molto attenta alla privacy delle mie figlie, quindi entro una certa età a non fargliela avere. A non fargliela avere. Lo so, però c'è un momento, lo dico da figlia, e so che i miei genitori nonostante adesso sia attempata, continuano a guardarmi e a pensarla in un determinato modo, perché io più o meno sono stata educata, come lei dice, ma a un certo punto io ho sderazzato, io ho fatto quello che ritenevo opportuno fare. Io ho fatto quello che ritenevo opportuno fare. C'è un momento, allora, siccome c'è un momento della vita in cui ci si sdogana, rispetto al rapporto genitoriale, allora, è inutile, credo io, fasciarsi gli occhi con il prosciutto e pensare che non esista un'attività sessuale al di là di quello che i nostri genitori ci dicono, ci consigliano per il nostro bene. Poiché però ci sono degli strumenti che possono aiutarci, allora, io non dico che ho visto fare questo, tante madri vanno addirittura a me, quando i figli maschi partono, mettono la confezione di preservativi in valigio dei propri figli. intanto io ti aiuto. Il caciocavallo come ho visto. Il caciocavallo non mi risulta. Il caciocavallo non mi risulta, io ho visto, so di amici che evidentemente c'è ancora una divisione maschio-femmina e su questo potremmo parlarne, però esiste uno strumento per la protezione e siccome vedo che sessuologi, psicoterapeuti, mamme, continuano a ripetere che questo problema esiste perché se ne parla poco, ad inolfi, allora, anche da lei un passo avanti, no? Non ci riusciamo, eh? No, io penso e faccio un passo avanti dicendo quello che dico, tanto quello che dite voi lo dicono tutti, io dico quello che ti ritengo sapendo che il mondo intorno a me dice che invece il preservativo sta parlando. Io credo che noi dobbiamo insegnare alle nostre figlie e alle nostre figlie un approccio diverso con la sensualità, finché non lo faccio in 18 anni neanche a 14, io potrino a pensare che con la figlia di 15 anni quando avrà 15 avrà 15 tipo di rapporto che ho avuto quella che è grande, poi quando è grande è grande, è mica posso andare a invadere poi lo spazio di una donna, ovviamente le donne prendono tutte le decisioni che vogliono. In autonomia io quello che mi pongo e che sono uno è che cosa devo fare io? Allora, se mi chiedono poi lei ad inolfi cosa fa, lo rispondo, ma ovviamente questo vale per me, mi chiede che sia utile mettere in valigia una ragazzina di 15 anni un bacchetto di preservativo lo faccia. Devo dire la verità, io ancora non ho conosciuto un padre che pette il bacchetto di 15 preservativi alla figlia 15 e una per ogni anno. No, io ho fatto la distinzione sui figli maschi, io ho fatto la distinzione sui figli maschi. io ho esperienze sono femmine e non è un problema che... Ah no, io ne conosco. C'è un padre di quadre che fa questo di confusione la figlia 15 prima di salutarci però, visto che è padre di tre figlie femmine e visto che è tifoso della Juventus e visto che in Arabia le donne sono trattate malissimo ma secondo lei si gioca dopodomani anzi andiamo in onda dalle 5 alle 6 perché poi c'è la diretta della partita e si doveva giocare a Jedda in Arabia secondo lei Juventus-Milan? Io penso che la verità dei rapporti con l'Arabia-Solida sia dal finte più pofletta che non farei difendere la questione a Donnarumma e Rugani ecco, i poverini hanno alzolto l'alzi ruolo ci pensassi al governo insomma praticamente non bisogna firmare quel tipo di contratto al limite non è che voglia di fare a loro progetto sì con la Lega Calza ma con un contratto quindi se la vede comunque la partita Juventus-Milan la guarda sì per la quarta Salvini no Salvini non se la guarda chi crede che Salvini non se la guarda ma l'avevi detto sicuro ma certo che se la vede ma ovviamente se la vede ma lui ha detto di no c'è un uomo di parole l'ha detto anche qua in diretta peraltro e quindi verrà chiamato non è vero non è vero era chiamabile Adinolfi grazie buona serata buona serata Mario Adinolfi